Gara tra Elauria e i ragazzi della Iene Widerman 0-0 il parziale, la squadra di Capitano Balsamo e quella di Capitano Armando Avolio quest'oggi con un completino, se il direttore di gara Savoia si spostasse dalle palle, completino offerto dallo staff del torneo Sananzaro almeno il pantaloncino come vedete infatti va più o meno all'altezza del pisellino il rilancio di Gianmaria Avolio che si appoggia da Stefanelli, ultimamente in uno stato di forma davvero impressionante Badolato prova a servire Avolio, qui sono gli abitulai estremamente precisi, il pallone arriva quindi dall'altra parte Tocchi la tocchi, totto, 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 va Badolato a battere questa laterale, entro a cercare Avolio di prima per Deriso, Deriso prova a rientrare, potrebbe appoggiare, sbaglia in questo caso al cross occhio Magri, prova ad andare, serve un compagno, dai e vai, Magri chiuso però da Badolato poi Avolio, Avolio prova ad andare, pensa al tiro, lo fa strozzato, Deriso se ne va in mezzo ha un fazzoletto di terra e poi trova la risposta di Balsamo, Badolato subito Deriso il corpo di un uomo è per gol, Deriso, Deriso il vantaggio di Lauria, Bomber Deriso la butta nel sacco, in una prima occasione aveva trovato il corpo di un avversario e poi però nulla ha potuto Balsamo, palla che è andata accanto al palo, 1-0 per i ragazzi di Lauria, viene sotto quindi vediamo se ci sarà un'immediata risposta, Abdullai chiuso addirittura da 3, Magri norma del vantaggio, le supera 2, Magri prova ancora ad andare, sempre Magri di tacco, occhio al palone che è perso, Avolio, Avolio, dal limite, Avolio, non serve Deriso, break delle Iene che provano ad andare con Abdullai, sbagliato il tocco però, Mangoni palla al piede, esagera, palla persa, vediamo se Badolato riesce a chiudere, palla che va sulla laterale rimessa per i Lauria e noi sul punteggio di 1-0 a favore dei ragazzi in maglia verde e bianca interrompiamo il nostro collegamento, vediamo se però prima, no ecco niente, non parte una azione offensiva per i Lauria, le Iene tengono palla dietro e noi allora chiudiamo il nostro collegamento. Lauria contro le Iene, bella vittoria quest'oggi 5-2, il migliore in campo Gian Maria Avolio, seconda volta per te che sei stato premiato migliore in campo in tutta la tua esperienza al torneo San Nazaro, Gianmi allora oggi tante parate, ti sei riscattato soprattutto non hai dedicato con tuo fratello, è un record. Sì, finalmente dopo tante prossime prestazioni mi sono ritrovato, sono riuscito a fare una buona prestazione e spero di continuare così anche nelle prossime partite, ho fatto buoni sabbataggi su Magri e sono fiducioso di poter continuare. Senti, la squadra quando gira funziona tutto bene, secondo voi te è anche causa di qualche sconfitta il fatto che spesso vi nervosite? Molto, è la cosa che ci demoralizza di più, quando ci nervosiamo riusciamo a ragionare poco e giochiamo male. Senti, un consiglio allora per i tuoi compagni per restare calmi e per cercare allora di fare qualcosa di meglio in questo torneo? Non è nervoso se sia il primo errore, cercare di essere più deciso la tua volta. Thanks Gianmi, grazie. No, voglio fare una testa a Giovanni Copca che ha creduto in meta sin dal primo momento di questa partita. Grande Copca, non gravi.